Storia della razza. L'agricoltura latiero-casearia è stata a lungo, vitale per l'economia svizzera, in quanto è un ingrediente chiave per due principali prodotti di esportazione. Formaggio e cioccolato a latte. Per spostare e proteggere le loro mandrie anche prima dell'inizio dell'agricoltura industriale, i pastori svizzeri hanno allevato quattro razze di cani da montagna alpini noti per i loro bellissimi cappotti tricolore. Di questi, il Grater Swiss Mountain Dog è il più grande e l'Entlebuker Mountain Dog è il più piccolo e veloce. Il nome Entlebuker, abbreviato Entle, deriva dal luogo di origine della razza. La valle del fiume Entlebuk. Erano usati come versatili cani da fattoria e da guardia, ma il compito principale di questi intelligenti cani da pastore, era quello di guidare i loro carichi ai pascoli d'alta quota in estate, monitorare la mandria durante la stagione del pascolo, e poi riportarli indietro. A valle per l'inverno. Questa descrizione del lavoro, spiega alcune delle caratteristiche chiave di Entle. Allevato per spostare il bestiame su, e giù per i pascoli in pendenza, l'Entle sa sviluppato un notevole equilibrio e agilità. La corporatura lunga e bassa dell'Entle non è esagerata come quella del Pembroke Velskorgi, ma l'idea è la stessa. Con gambe come questa è più facile mordere i talloni della mucca ed evitare di scalciare. L'amore della razza per il lavoro, e la vita in generale gli è valso il soprannome di Derla Kenun dell'Auging Dog. L'operaio Entle è così entusiasta che può saltare in piedi, e schiantarsi contro una mucca testarda per farla muovere. Un'etica del lavoro così obbediente è essenziale per un cane di 25 kg incaricato di guidare una mandria di animali di 600 kg sul fianco della montagna. L'Entle Booker Mountain Dog è riconosciuto a livello internazionale dalla Federation Kinologique Internationale secondo gli standard sviluppati per questa razza in Svizzera. Anche altri che nel club nazionali non affiliati alla FKI riconoscono la razza, spesso redigendo le proprie versioni dello standard di razza. L'Entle Booker Mountain Dog, o Entle Booker, è una razza di cani da pastore specializzata nel pascolo, e nella protezione di mandri e di bovini negli altopiani. Questi cani sono in grado di svolgere funzioni di guardia, e sono compagni meravigliosi. Nelle Alpi, sono usati come venditori ambulanti di latticini dalle fattorie alla città. Sono famosi per la loro forza e resistenza, duro lavoro e coraggio. Prenditi cura con cura dei figli del proprietario. Punti salienti e fatti interessanti. L'Entle Booker Mountain Dog è stato riconosciuto dalla AKC nel 2011, ed è la sua centosettantesima razza. L'Entle Booker Mountain Dog è anche conosciuto come Entle Booker Mountain Dog o Entle Booker Herding Dog. L'Entle Booker Mountain Dog ha un abbaio impressionante, sorprendentemente forte per le sue dimensioni. Hanno un acuto senso della gerarchia sociale e richiedono un alto livello di socializzazione e apprendimento precoci. Aspetto? La femmina dell'Entle Booker Mountain Dog ha una cornice più quadrata, il maschio è più lungo. Questa razza ha piccole orecchie triangolari e occhi marroni piuttosto piccoli. La testa è proporzionata al corpo, con un forte cranio piatto. La mascella lunga è ben formata e potente. I piedi sono compatti e sostengono il corpo muscoloso. Mantello liscio e denso con macchie simmetriche nere, marroni e bianche. Fianchi larghi muscolosi. I garretti sono naturalmente ben inseriti. La coda a volte è tagliata, cosa che ora è illegale in molti paesi, oppure può avere un botail naturale. L'altezza algarrese va da 48 a 50 centimetri, il peso va da 25 a 30 chilogrammi. Tratti distintivi del carattere. Come tutti i grandi cani da lavoro attivi, questa razza dovrebbe essere ben socializzata all'inizio della vita con altri cani e umani, e dovrebbe ricevere attività e addestramento regolari. Il temperamento può variare da cane a cane. Lo standard dice che la razza è bonaria e fedele alle persone che conosce, un po' sospettosa degli estranei. Manutenzione e cura. L'Entlebucher Mountain Do prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Richiede generalmente una manutenzione minima. Questa razza perde molto, quindi puoi ottenere un buon pettine da spogliarellista, o una spazzola a setole, spesse per ridurre al minimo lo spargimento. Le unghie dovrebbero essere tagliate ogni mese per mantenerle corte e pulite. Le cure odontoiatriche dovrebbero essere iniziate presto e mantenute regolarmente per tutta la vita del cane. Le orecchie dovrebbero essere controllate settimanalmente. La pulizia di cera e detriti può aiutare a evitare le infezioni alle orecchie, che affliggono i cani con le orecchie cadenti. L'Entlebooker Mountain Dog è un cane veloce e resistente con alti livelli di energia. Per mantenerlo in buona forma fisica, ci vorrà almeno un'ora di esercizio fisico ogni giorno. Poiché un cane stanco è un buon cane, mantenere l'energia della razza incanalata attraverso l'esercizio renderà molto più facile addestrarlo e conviverci. Gli Entle amano fare attività con i loro proprietari, quindi diventano ottimi compagni per corridori, escursionisti, ciclisti e altre persone molto attive. Salute. La maggior parte dei cani da montagna Entlebooker sono cani sani, ma la razza può essere suscettibile ad alcune malattie. Uno dei problemi riscontrati in questa razza è la sindrome urinaria di Entlebooker, una condizione associata a uno spostamento anormale dell'uretere. Altre condizioni che sono state osservate nella razza includono displasia dell'anca, l'usazione della rotula, e alcune condizioni oculari. Gli allevatori responsabili selezionano le malattie genetiche e selezionano gli allevamenti sani. Prezzo e come acquistare correttamente. Il modo più affidabile, e allo stesso tempo economicamente costoso è acquistare un cucciolo di Entlebooker Mountain Dog nei vivai europei, dove la base di allevamento è migliore e la razza stessa funziona più a lungo. I cuccioli costeranno dai 600 ai 1000 dollari USA, a seconda dei ranghi dei produttori, e della qualità dell'esterno degli animali stessi. Linea di fondo. L'Entlebooker Mountain Dog è una razza canina svizzera, rappresentante del gruppo Mountain Dog. Derivato da Emmental ed Entlebook, menzionato per la prima volta nel 1889. Gli Entlebooker sono animali molto forti, intelligenti e capricciosi. Sono sempre in allerta, poiché in precedenza, erano allevati per la pastorizia. Hanno dal nero con il giallo al marrone ruggine e macchie bianche. Peso da 25 a 30 kg. Sono parenti dei Bovari del Bernese, della Grande Svizzera e della Penzello, hanno un colore simile. Di queste razze svizzere, l'Entlebooker Mountain Dog è la taglia più piccola.